Questura nell'attività di contrasto alla violenza di genere, strategie di intervento. Costante l'impegno della Polizia di Stato e difesa delle donne attraverso il lavoro continuo in tutti gli uffici operativi della Questura. L'azione di contrasto alla violenza di genere prevede la possibilità di applicare al soggetto autore di atti persecutori o di maltrattamenti in famiglia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche con l'ausilio del cosiddetto braccialetto elettronico, strumento che consente alla stessa vittima di rilevare in tempo reale l'avvicinamento della maltrattante nonché l'applicazione degli ammonimenti emessi dal questore nei confronti delle medesime categorie di individui. A riguardo dal 1 gennaio ad oggi la Questura di Siracusa ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria 27 proposte di applicazione di sorveglianza speciale di cui 26 uomini e una sola donna di età compresa tra i 19 e i 74 anni. Inoltre il questore ha emesso 41 ammonimenti di cui 22 nei confronti dei soggetti autori di violenza domestica di età compresa tra i 30 e i 56 anni anche in assenza di querela da parte della vittima e 19 nei confronti dei soggetti responsabili di atti persecutori di età compresa dai 21 ai 69 anni. L'ammonimento si è rivelato uno strumento particolarmente efficace e infatti dei 41 soggetti sottoposti solo uno di essi ha reiterato condotte maltrattanti per cui è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. Sempre più donne si rivolgono con fiducia alla Polizia di Stato e in alcune occasioni probabilmente sono state messe anche di iniziativa senza la collaborazione delle vittime. Il sempre maggiore ricorso agli strumenti in argomento è frutto della massiccia campagna di informazione messa in alto dalla Polizia di Stato con le ormai note iniziative come il progetto del Departamento di Pubblica Sicurezza Questo non è amore che induce a richiedere per tempo la misura dell'ammonimento a seguito della cui applicazione si è rivelato un abbattimento della recidiva. Quest'ultimo dato dimostra come la denuncia o la richiesta di ammonimento siano gli unici strumenti validi per affrontare il fenomeno della violenza di genere. La violenza di genere è un evento infido che si manifesta in modo esplicito ma a volte assume forme celate determina sempre l'effetto di minare la dignità e l'integrità psicofisica delle vittime e troppo spesso si arriva all'estrema conseguenza del femminicidio. Denunciare la violenza è un atto che richiede coraggio. Noi abbiamo il dovere di sostenere chi lo fa e assicurare sicurezza e protezione.